La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it www.isaporidelvallo.it La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. Il leader di Confindustria avverte che basta speculazioni. Per quanto riguarda il governo, ministri Ronzulli e Salvini, i nodi che bloccano la lista del nuovo governo. Andiamo avanti con la politica per la provocazione di Grillo, brigate di cittadinanza, dure reazioni, irresponsabili. Questo per quanto riguarda il reddito di cittadinanza e poi l'opinione perché il PD non si rinnova solo cambiando i dirigenti. Altro tema e ci spostiamo di fondo, l'analisi tempi stretti per evitare il tracollo energetico. Questo ancora per quanto riguarda il caro Energia. E poi nella fotonotizia la ragazza arrestata a Teheran, vediamo Alessia nel carcere dei dissidenti, pesano i post sul regime iraniano. Teheran si punta all'espulsione della blogger. I versi di Salem dedicato alle ragazze che liberano le trecce al vento. Ancora in alto, ma andiamo di spalle, il collasso demografico. Fuga dal sud, un milione in meno in dieci anni. Questi i dati dell'Istat su cui poi torneremo. Mentre per quanto riguarda la sicurezza, sicurezza a Salerno, allarme per minacce e morti sul lavoro. Denunce di reati, la classifica delle emergenze sui territori, dati preoccupanti anche per le percosse e le lesioni dolose. La provincia di Salerno, per quanto riguarda l'indice di criminalità, secondo una classifica stilata dal sole 24 ore, che fotografò le denunce registrate pari alla provincia di Caserta. Nella classifica generale dei reati, per stilarla, sono state prese in considerazione le denunce dell'anno precedente rispetto alla pubblicazione di ieri. Si differenziano di un punto. Salerno è alla 47esima posizione, Caserta invece la 46esima. Ben lontana la nostra provincia, dalla 78esima posizione di Avellino e dalla 102esima di Benevento. E poi la denuncia shock, notte da incubo a Roma, studente col monopattino rapinato e poi violentato. Quindi escalation di violenza in Italia. In basso invece il calcio con la gara in programma questa sera per il Napoli. In Champions League affronteranno l'Ajax, vediamo Carica Spalletti con l'Ajax. Nessuna distrazione, il Napoli ad Amsterdam dopo i successi con Liverpool e Rangers si gioca alle 21. E poi ancora, effetto Grif Maradona, partita nel segno dei miti, i club dei più grandi. Questa è la prima pagina del mattino nazionale, vediamo i titoli per la prima pagina del mattino di Salerno. Il commercio, austerity, solo un mese di luci. Ferrara, l'evento ci sarà, l'ipotesi è partire a dicembre, spegnimento a mezzanotte. Le iniziative, negozi, via dal centro storico, l'assessore, incentivi dal comune, impossibile. Massima solidarietà ai commercianti e totale disponibilità a un'azione sinergica per spingere il governo centrale a trovare soluzioni rapide ed efficaci. Ma il comune non ha nessun potere per frenare la fuga degli esercenti messi in ginocchio dai fitti alle stelle. Lo precisa senza polemiche l'assessore alle attività produttive Ferrara che parla anche della prossima edizione di Lucida Artista. Si faranno, ma l'ipotesi è che restino accese solo un mese. Quindi una kermess ridotta quest'anno. Andiamo avanti. La mobilità, i nodi costieri, ritornano i pullman turistici, traffico KO e schianto. Grave un sedicenne. Per la sanità, invece, parla il manager dell'Asl di Salerno Sosto. Negli ospedali tornino i medici salernitani. Andiamo di fondo. La scuola, boom di bocciati e più violazioni alla disciplina. Effetto Covid. Vedremo nelle pagine di Salerno come vi è stato un altissimo numero di ragazzi bocciati agli esami di riparazione. E come vediamo, insomma, per il mattino e per la scuola potrebbe essere l'effetto delle restrizioni dovute al Covid. Andiamo ancora avanti. L'iniziativa alla biblioteca del De Santis apre una sede nel centro città. Centro pagina. Il dossier. Minacce e incidenti sul lavoro. Ecco le emergenze sicurezza. Denunce di reato. Salerno come caserta nella classifica del sole 24 ore. Percosse lesioni. Gli altri fenomeni più allarmanti. E ancora la tragedia sul raccordo. Guidava ubriaco. L'auto dei giovani condannato per la morte dell'amico. Nella fotonotizia dopo il K.O. contro il Sassuolo nella Salernitana è tempo di resoconto. Vertice De Santis Nicola. Per ora andiamo avanti. Quindi per il momento non vi sarà un cambio in panchina. Iervolino conferma il tecnico ma è fiducia a tempo. E poi il commento. Gratitudine eterna ma si cambi subito. Andiamo in basso. Ragazze solidali con le iraniane. Via le ciocche dei capelli. La testimonianza provocazione delle studentesse del genovesi Da Vinci. Nella fotonotizia l'intimidazione siamo a Capaccio Pestum incendi dolosi a Capaccio contro due aziende. Questi titoli per la prima pagina del mattino di Salerno. Vediamo invece i titoli per il quotidiano Le Cronache. L'intervento di Alfonso Conte sulla Fontana Felice. Pochi capivano, molti rompevano. A sostenere il progetto di Ugo Marano, l'ex assessore persico. Fece un piccolo libro perché si conservasse una testimonianza di come l'aveva concepita. Disse a Mendini, quest'opera prende forma, si completa, quando due anziani si siedono a chiacchierare. E poi andiamo in alto la polemica all'interno del PD. Parla Alfonso Andri ad Enzo Luciano, Napoli sindaco, anche grazie a me. E poi l'analisi del Sole 24 ore, morti sul lavoro, Salerno all'ottavo posto. Andiamo di Spalla, l'architetto Carpentieri, restauro della Fontana e della Statua della Libertà nel progetto dei box. E poi a centropagina invece parliamo di Salernità, nel nodi dei Zerbi, fece saltare i piani di Iervolino. Dopo il K.O. con il Lecce fu l'avvocato Finmano a chiedere l'esonero. La trattativa non si chiuse, acque agitate in casa Granata, il patron prova a fronteggiare l'emergenza. Andiamo a campagna, il consigliere Montera, servizio mensa e trasporto ancora fermi. E poi invece parliamo anche dell'aeroporto Costa Damalfi e ci spostiamo di fondo. Es proprio dei terreni, attesa per la decisione del Consiglio di Stato a Scafati. Infine passa il bilancio per un voto, colpo di scena annunciato, Quartucci salva, salvati. Questi titoli invece per le cronache. Torniamo ora sul mattino nazionale, andiamo ad approfondire i temi, li abbiamo già visti dalla prima pagina partendo dal caro Energia. Vediamo, parliamo in particolare del blocco del gasdotto di Tarvisio, vediamo arriva meno metano russo e la speculazione non frena. Eni prova a superare il blocco del Tarvisio, descalzi esportiamo ma l'inverno sarà duro. L'Italia chiede un tetto alle quotazioni basato su un paniere di prezzi mondiali. Il tubo che entra in Italia dal passo del Tarvisio è vuoto, da sabato scorso il flusso di gas russo che passa da quel metano dotto si è interrotto stavolta non per volere di Vladimir Putin e di Gazprom, affermare i flussi sono gli austriaci che hanno chiesto una garanzia di 20 milioni a Mosca per lasciare passare il gas. L'amministratore delegato di Eni Descalzi ha spiegato che il suo gruppo sta cercando di capire se può subentrare a Gazprom per il pagamento della fideiussione. Spunta l'ipotesi di rafforzare il mercato PSV aumentandone la liquidità per tagliare i costi. Vediamo i prezzi, 170 euro, il prezzo al megavattore del gas registrato ieri sul mercato olandese TTF, Mente 346 euro e il prezzo record del gas toccato sul mercato olandese del TTF ad agosto. Andiamo di fondo, le misure già prese, bollette, giù gli oneri di sistema e l'IVA. Il primo intervento del governo è stato l'azzeramento degli oneri di sistema che appesantiscono le bollette. E ancora poi bonus speciali a più famiglie per aiutare un maggior numero di famiglie in difficoltà. La soglia ISEE del bonus sociale è stata alzata a 12 mila euro. Ancora imprese, crediti di imposta per 18,3 miliardi per compensare gli extra costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia o gas naturale, sono stati introdotti crediti di imposta per 18,3 miliardi. Per quanto riguarda i carburanti, di sele e benzina con lo sconto, lo sconto di 30 centesimi al litro sui carburanti grazie al taglio delle relative accise è in vigore fino al 17 ottobre, finora è costato 7,7 miliardi di euro. Andiamo in basso ancora, caro bollette, Italia più povera, il chances rischio si allarghi a 10 milioni di persone. L'inflazione e il caro energia accelerano la crisi sociale, allargando a macchia d'olio la fascia di cittadini e imprese in difficoltà. L'indagine Censis Cooperative, un paese da ricucire, rimanda all'immagine plastica di un'Italia nella quale famiglie e aziende, rimaste a lungo immuni dei problemi, si trovano ormai ad un passo dal baratro. Il disagio sociale, si legge nella ricerca, supera i confini della povertà conquistando nuovi spazi, inghiottendo 3 milioni di famiglie per un totale di 10 milioni di persone, mietendo nuove vittime tra coloro che fino a oggi pensavano di esserne al riparo. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre sul mattino nazionale, parliamo invece del governo, vediamo ancora che si sta la leader di Fratelli d'Italia, primo partito, risultato quindi il partito più votato alle scorse elezioni, è alle prese con i nomi dei ministri che la affiancheranno al governo. E vediamo, trattative nel centro-destra, i nodi Ronzulli e Salvini bloccano la lista dei ministri, Meloni, facciamo in fretta, la tentazione del leader del Carroccio è cercare lo scontro frontale sul Viminale, Giorgia sottolinea le scadenze importanti, Tajani, governo politico con pochi esterni, la fedelissima del CAV ambisce a istruzione o salute, ma Fratelli d'Italia punta su profili più autorevoli. Vediamo quali sono i possibili nomi del prossimo governo, si ipotizza quindi a guida centro-destra, si aspetta che il Presidente della Repubblica assegni l'incarico a Giorgia Meloni, vediamo per l'economia c'è il nome di Domenico Siniscalco, agli interni Matteo Piantedosi, mentre per gli esteri Elisabetta Belloni, per i rapporti con il Parlamento il nome di Maurizio Lupi, mentre per la salute c'è il nome di Francesco Rocca e ancora Andrea Mandelli, all'istruzione potrebbe essere Lucia Ronzulli o Mario Pittoni, mentre alla difesa ci sono i nomi di Antonio Tajani e Adolfo Urso. Bossi insiste con l'operazione Comitato Nord, la cravatta verde è il nostro simbolo di libertà. E andiamo avanti in basso, Matteo convoca i leghisti, scegliamo insieme i nomi, ma dai ribelli fiducia a tempo. E Salvini che fa una domanda, 100 risposte, la verità è che nessuno lo sa con precisione, per questo l'attesa per il Consiglio federale convocato a Roma alle 15 di oggi, e non solo dentro il carroccio, sulla nuova riunione dei maggiorenti leghisti, dei governatori Luca Zai e Massimiliano Fedriga, ai colonnelli Riccardo Molinari e Giancarlo Giorgetti, sono puntati gli occhi di Giorgia Meloni. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, vediamo invece quali potrebbero essere i nuovi nomi per la RAI, perché si pensa anche ad un nuovo assetto all'interno della televisione nazionale, vediamo RAI, San Giuliano verso il Tg1, Tg3 e GR alle opposizioni, il piano Tg2 alla Lega per Giorgino, un ruolo da direttore, cambio ad inizio 2023, Fratelli d'Italia vuole coinvolgere anche il centro-sinistra, Rossi uomo di riferimento in azienda, possibile riconferma per Orfeo, Movimento 5 Stelle potrebbe andare ai giornali radio, una direzione per Rao e Petrecca. E poi per le altre nomine, il walzer dei Gran Commissi, Deodato resta a Palazzo Chigi, consigli anche da Frattini, la nuova maggioranza recluta altri dirigenti per il governo, caccia i migliori senza alcuna pregiudiziale politica, si cerca di confermare le figure decisive sui dossier del PNRR e all'economia potrebbe restare Chinè. Torniamo in alto, vediamo quali sono i nomi per quanto riguarda le nomine della RAI, andiamo quindi nelle foto per il Tg1, c'è come abbiamo detto Gennaro San Giuliano come direttore del Tg2, che attualmente è direttore del Tg2, che potrebbe quindi passare al Tg1. Angela Marella da Isoradio può arrivare al Tg2 in quota Lega. Nel CdA c'è il nome di Giampaolo Rossi, è l'uomo di riferimento di Fratelli d'Italia per la TV, mentre ai Tg regionali Nicola Rao, per lui dovrebbe esserci un posto da direttore. Questi potrebbero essere i possibili nomi per il nuovo assetto della RAI. Andiamo avanti e lasciamo quindi anche questa pagina, Parliamo invece del caso della ragazza che è stata tratta in arresto a Teheran. Vediamo Iran su Alessia, pesano i suoi post anti-regime, si punta all'espulsione detenuta in un commissariato a nord di Teheran. Partita la trattativa per liberarla da chiarire l'accusa che ha portato al fermo la polizia a stranieri coinvolti nelle proteste. Poi qui vediamo uno dei post incriminati, è intitolato Bella Ciao, nel testo la ragazza romana appoggia le proteste in Iran dopo l'uccisione di Massa. E poi ancora dopo le difficoltà per il rinnovo del visto, la giovane aveva ottenuto il permesso per un altro paese. Uno dei messaggi, non riesco ad andarmene da qui, ormai sono parte di tutto questo. E poi in basso l'amica, la mamma era disperata, ma lei ha deciso di partire lo stesso, la preoccupazione dei conoscenti, le abbiamo chiesto se non avesse paura, ma voleva conoscere posti nuovi. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti. Parliamo ora invece dei dati per quanto riguarda lo spopolamento con il crollo, come abbiamo visto anche dalla prima pagina, per quanto riguarda il crollo demografico in particolare nel mezzogiorno. Vediamo sud e fuga dei residenti, meno un milione in dieci anni. L'Istat aggiorna i dati al 31 luglio 2022 per ogni nato due tramorti ed emigrati. A Trapani, Napoli e Taranto è il peggiore calo dei redditi con la crisi del Covid. La quota di residenti del mezzogiorno sul totale Italia in 20 anni è scesa dal 36% al 33,5%. Poi vediamo qui i numeri. Nel 2002 erano 20,51 milioni i residenti al sud e nel 2022 risultano 19,75 milioni i residenti sempre al sud. Andiamo in basso. Non studiano né lavorano. Aumentano i giovani net. Fondazione Agnelli in Italia con la pandemia è salita al 34,6% la quota di inattivi dai 25 ai 29 anni. E con questa pagina ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. Torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo sulle pagine del mattino di Salerno. Sulle pagine di primo piano si parla di sanità con le parole del direttore generale dell'Asra di Salerno, Gennaro Sosto, che chiede ai medici salernitani che lavorano negli ospedali del nord di tornare al sud e parla anche di concorsi per nuovi medici. Vediamo concorsi per 150 medici. Chiediamo ai salernitani di tornare a lavorare qui. Queste le parole di Gennaro Sosto, il manager dell'Asli, buchi nell'organico, la difficoltà di recuperare nuove risorse, corsi per il personale sulle ambulanze, emergenza da riorganizzare con il Ruggi. La prevenzione, il nostro tallone d'Achille, vogliamo convincere i cittadini ad aderire in massa agli screening. E proprio per quanto riguarda gli screening è iniziata la campagna antitumori. Vediamo controlli antitumori e più vaccini, così decongestioniamo gli ospedali. In basso la solidarietà, mensa dei poveri e polo della carità, si cambia sempre più bisognosi. La Caritas rimodula strutture e servizi, ruolo fondamentale per le parrocchie e il volontariato. Chiudiamo questa pagina dedicata alla solidarietà e alla sanità. Andiamo avanti e parliamo ora invece di scuola. L'abbiamo visto anche dalla prima pagina un numero elevato di giovani che non hanno superato l'esame di riparazione. Vediamo boom di studenti ripetenti e più violazioni disciplinari. Ben 1450 alunni non hanno superato gli esami di riparazione di settembre. Già 800 SOS e gli sportelli psicologici. I presidi sono gli strascichi del Covid. Un allievo su tre non ha recuperato i debiti formativi. Segnale d'allarme, tarda il ritorno alla normalità. Aumentano anche gli adolescenti in cerca di ascolto. E negli istituti arrivano i team antidispersione. Sempre per la scuola, bocciato in prima liceo, il TAR respinge il ricorso dei genitori. In basso invece l'iniziativa. La biblioteca del De Santis apre una succursale in centro e i ragazzi diventano librai. Volumi in prestito e catalogo online. La Sena si appoggia alla sede di Sodalis per due pomeriggi ogni settimana. Chiudiamo questa pagina. Andiamo avanti ancora. Per le pagine della Piana del Sele, dei Picentini, del Cilento e del Vallo di Diano. In apertura andiamo in Cilento con il caso di Capaccio Pestum con il tentativo di intimidazione. Vediamo, bruciati infatti due furgoni, ipotesi intimidazione, l'incendio è doloso. I mezzi sono di proprietà di due diverse aziende del posto. Trovati stracci imbevuti di benzina e il tappo di una tannica. Sono di matrice dolosa. I due incendi appiccati nella notte tra sabato e domenica in località Ponte Barizzo a Capaccio Pestum. Le fiamme hanno distrutto due automezzi di proprietà di altrettante note aziende della zona. Stando alle prime ricostruzioni, l'incendio è divampato intorno alle 3 di notte nel piazzale retrostante il condominio Margest. situato nei pressi della statale 18. I due mezzi si trovavano parcheggiati ora decina di metri l'uno dall'altro a far scattare l'allarme. Sono stati residenti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. E ancora, andiamo avanti. Le fiamme hanno pericolosamente lambito il bombolone del gas ed una cabina elettrica a pochi passi dai due mezzi. La testimonianza, non ho idea del perché di questo atto incendiario nei nostri confronti, dice il titolare di uno dei due mezzi. L'unica certezza è il dolo. Confidiamo nel lavoro investigativo. Andiamo a Campora. Chiude la SP142. Ok al servizio navetta. A Ponte Cagnano-Faiano, invece, grave il gambiano ferito nell'agguato in Litorania. Restano gravi le condizioni dello straniero accoltellato a Ponte Cagnano. Il gambiano è in fin di vita all'ospedale di Salerno dove è giunto domenica in codice rosso. Andiamo in basso. Battipaglia, Interinali contro la carenza di organico. Alba ha deciso la proroga dei contratti. A Eboli, invece, assise di fuoco e scontro tra Di Benedetto e Marisei. La Piana del Sele è sotto attacco della Regione. Una delle tante dimostrazioni è la mancata candidatura dell'onorevole Federico Conte. Questo è il passaggio dell'assessore lavori pubblici Salvatore Marisei, interrogato dal consigliere di opposizione in area centrodestra Cosimo Pio di Benedetto, che non fa sconti nella replica. La discussione parte, si dipana, sui finanziamenti di progetti importanti su cui il consigliere di Benedetto vuole fare chiarezza. Andiamo di spalla, bus e mensa, fermi al palo, l'opposizione sulle barricate e siamo a campagna. Mentre a Sant'Arsenio, caro Bollette, il comune regala maglie agli studenti, combattere il freddo vestendosi caldi. A fornire gli abiti giusti a centinaia di studenti dall'asilo alle scuole medie, sarà il comune di Sant'Arsenio. Infatti, previsto l'acquisto di maglie e scaldacollo di Pail per gli alunni di materne elementari e medie in vista del taglio delle temperature e dei riscaldamenti previsti in un emendamento del decreto Bollette con il quale si determina che la temperatura in uffici e scuole non dovrà superare i 19 gradi in inverno. La decisione dell'amministrazione guidata da Donato Pica si evince da un impegno di spesa pubblicato sull'albo pretorio del comune di Sant'Arsenio. E chiudiamo il mattino, andiamo ora invece sullo quotidiano Le Cronache. Tra le pagine di primo piano ci sono le notizie sull'aeroporto Costa d'Amalfi. Vediamo a che punto sono i lavori. Si pensa intanto agli espropri di alcuni terreni per la realizzazione delle opere per l'allargamento anche della pista. Vediamo aeroporto a breve il Consiglio di Stato sui pareri di esproprio di alcuni terreni. Il Costa d'Amalfi ha delle serie prescrizioni che deve onorare ancora ma al momento risulta che nulla è stato fatto. Bisogna risolvere il problema metro e linea ferroviaria a 300 metri dalla pista. non si esclude che entri di nuovo in gioco all'aeroporto di Grazzanise. Sarà il Consiglio di Stato a mettere la parola fine sulla vicenda dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi sulla vicenda relativa agli espropri ma anche l'ipotetico inquinamento ambientale che provocherebbe lo scalo aeroportuale. Una battaglia che sta portando avanti l'oncologo Vincenzo Petrosino terminate le elezioni con il comprensibile silenzio degli attori che avevano dichiarato la prossima apertura del Costa d'Amalfi si va verso il giudizio del Consiglio di Stato che dovrà pronunciarsi sui decreti di esproprio ENAC e su altri punti non meno importanti ha dichiarato ricordando che il Costa d'Amalfi ha anche delle serie prescrizioni che deve onorare e al momento risulta che nulla è stato fatto. Andiamo in basso il caso poche corse autobus pieni disagio per gli studenti dell'Università degli Studi di Salerno a segnalarlo uno studente universitario che ha chiesto l'intervento del neoeletto parlamentare Francesco Borrelli e chiudiamo questa pagina andiamo avanti e vediamo le notizie provenienti dalla parte più a sud della provincia di Salerno andiamo a Pioppi dove è stata celebrata la giornata europea delle fondazioni laboratori riproposti laboratori di rigenerazione sul tema della sostenibilità promosse e realizzati dalle Gambiente nell'ambito del festival della dieta mediterranea la decima edizione dell'evento è stato organizzato dalla fondazione Carisal l'evento si è svolto dalla sede del palazzo Vinci Prova in basso per di fumo scuola chiusa per lavori di somma urgenza malandrino perché solo adesso e non prima e poi ancora completati i lavori in prossimità del fiume Bussentoli aperta ieri la ex SS18 la provincia di Salerno con ordinanza numero 1020 revoca la precedente ordinanza di chiusura al traffico veicolare istituisce il senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche con riattivazione della circolazione veicolare sulla ex SS18 in prossimità del viadotto sul fiume Bussento nel comune di Santa Marina l'ordinanza di riapertura decorre a partire da ieri sono iniziati infatti i lavori di sommorgenza per il ripristino la messa in sicurezza della carreggiata stradale a seguito del cedimento del rilevato stradale in prossimità del viadotto e chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre sulle pagine di le cronache per l'area sud di Salerno lo abbiamo già visto anche sul mattino raccolta firme dei genitori per far partire il servizio mensa e trasporto siamo a campagna la consigliera comunale ad oggi la gara di appalto non è stata ancora bandita e non si sa quando inizierà Giulia Montera abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale monotematico le famiglie non possono essere lasciate sole non è accettabile che al 30 settembre non si sappia ancora nulla andiamo in basso Battipaglia contrabbando alla spineta il resto convalidato per il battipagliese Michele Di Stasio e altri due erano stati scoperti con 70 quintali di bionde a Sala Consiline in arrivo il bonus ristorazione pasticcerie e gelaterie 2022 Aquino permetterà di migliorare la produttività Confesercenti continua la sozione di informazione sulle varie misure a sostegno delle attività commerciali imprenditoriali e artigianali e rende noto che a breve sarà possibile presentare domanda per il bonus ristorazione pasticcerie e gelaterie 2022 e con questa pagina termina la nostra rassegna stampa io vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG alle ore 13.45 alle ore 19.45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito